La Plaza Mayor col suo mercatino di Natale, sotto uno splendido sole, una giornata fantastica di sole, mercatino, e ci troviamo di fronte a un presepe stupendo nel bel mezzo della Plaza Mayor di Madrid. E per mia grandissima sorpresa, vediamo che sottolineano Greccio, 1223 Plaza Mayor 2023. Primo presepe di Greccio, Riete. Tutto ciò in questo splendido scenario che è la Plaza Mayor col suo mercatino di Natale. È un Natale che piano piano si sta avvicinando.